dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro, a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Parola del Signore. L'ascensione è la seconda grande tappa del tempo pasquale. Gesù morto, sepolto, risorto, oggi ascende al cielo. Che cosa vuol dire? Non vuol dire che è partito come un missile per andare in mezzo alle stelle. Vuol dire che la sua umanità, il suo corpo risorto, viene portato nella dimensione di Dio, quindi viene glorificato. Questo è, come dire, proprio il cuore di questo mistero. La nostra umanità è elevata al massimo livello, il livello di Dio. Dentro Dio c'è anche un corpo umano, c'è il corpo di Gesù e un giorno ci saranno anche i nostri corpi, trasfigurati come quello di Cristo. E allora, in questo mistero bello, in cui vediamo il massimo possibile della gloria per l'uomo, per l'umanità, arrivare allo stesso livello di Dio, ascoltiamo la finale del Vangelo di Matteo, che è il Vangelo di quest'anno. Quando per l'ultima volta, nel Vangelo di Matteo, Gesù si manifesta agli undici discepoli, naturalmente dopo la Pasqua, e dice, ecco il cuore dell'ascensione, a me è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Gesù, seduto alla destra del Padre, come diciamo, ecco è il glorificato, è colui che ha ricevuto ogni potere. E allora andate, fate discepoli tutti i popoli, battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnate a loro ciò che io vi ho comandato. Ecco, l'ascensione è anche il giorno della missione, perché come dice San Leone Magno, tutto quello che era presente nel corpo di Cristo, quando era sulla terra, oggi è passato nei sacramenti, cioè l'incontro con Cristo è possibile sempre ovunque, non c'è più bisogno di andare, anche se fa molto bene alla vita andare a Gerusalemme a incontrare Gesù, se fosse rimasto in mezzo a noi, ma Gesù è rimasto attraverso i sacramenti, attraverso la sua comunità. Infatti alla fine dice, ed è le ultime parole del Vangelo di Matteo, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Com'è con noi? Attraverso questi segni, i sacramenti, la comunità, la parola, i poveri, la fraternità, la natura, sono tutti segni della presenza del Cristo risorto in mezzo a noi, a noi comunità, a noi chiesa, a noi credenti, il compito di andare e fare discepoli tutti i popoli, cioè raccontare a tutti con la nostra vita e se occorre anche con le nostre parole che Gesù è vivo, che è presente in mezzo a noi, che è insieme il Signore del cielo e della terra e che un giorno tutto sarà ricapitolato in lui. Lo raccontiamo non perché dobbiamo fare proselitismo, ma perché è un'esigenza del cuore condividere il grande dono che abbiamo ricevuto nell'incontro con il Signore. Andate e predicate il Vangelo. E apprendi il Vangelo.